Una seconda edizione del Maggio dei Libri all'insegna della comicità Made in Abruzzo. Debordante la performance di Gabriele Cirilli, ospite di punta dell'evento organizzato dall'Archeoclub di Villetta Barrea, presieduto da Giussi Colantoni. Oggi è stato veramente divertentissimo, oltre che interessante. È stato uno spettacolo tra storia, cultura, cucina di un personaggio abruzzese. Questa è la cosa importante. Ecco, all'Archeoclub di Villetta Barrea fa piacere esserci presente ogni qualvolta il Maggio dei Libri. chiama le associazioni per organizzare e per dare un contributo. Lo scorso anno Giacobbo che ci ha ammaliato per diverse ore, quest'anno la comicità di Gabriele Cirilli. Cosa c'è da aspettarsi per il prossimo anno? Guarda, ci penseremo. Abbiamo un anno per pensarci. Naturalmente il nostro intento è quello di fare sempre meglio. Abbiamo degli ospiti molto diversi tra di loro, però come vedete riescono sempre a catturare un target abbastanza eterogeneo. Quindi per noi l'importante è quello di raggiungere un'utenza il più possibile eterogenea. Il motto del Maggio dei Libri di quest'anno è leggere fa crescere. Noi abbiamo personalizzato un po' questo motto del Maggio dei Libri aggiungendo e con noi è anche divertente. Il comico originario di Sulmona, accompagnato dalla conduttrice e modella Benedetta Mazza, ha presentato Non si butta via niente, un libro autobiografico tra ricordi e ricette abruzzesi. Stare in Abruzzo è bello perché venga a trovare mamma. La mamma è sempre la mamma. Pensa che io per mia madre sono sempre il suo bambino. Gli ho detto una volta, mamma guarda che ho 47 anni, moglie e figlio, e lei mi ha fatto, vabbè ma poi rimetti tutto a posto. Quindi immaginate voi. E sono tornato molto volentieri in Abruzzo per presentare il mio libro, ma ha un'aria particolare questa presentazione proprio perché si respira l'Abruzzo, proprio c'è Villetta Barrea nel parco nazionale. Ma voi vi rendete conto cosa c'è in Abruzzo? Parco nazionale, cioè è una cosa che cosa abbiamo da invidiare alle altre regioni? Nulla. Gabriele, parlaci un pochino del tuo libro. L'idea è nata perché ognuno di noi quando ricorda, ricorda attraverso canzoni. Cioè se per esempio io dico quella tua maglietta fina, Baglioni, ti fa ricordare a quel periodo. Io invece ricordo con i sapori, con gli odori. A me se tu mi dici filetta del baccalà, mi ricordo subito i primi tempi quando sono andato a Roma. I primi provini, perché sotto dove abitavo a Roma, sotto casa, c'era questa filetteria, si chiamava all'epoca filetteria di baccalà. Quindi come vedi questo libro è nato perché io con i sapori ho ricordato delle cose che poi ho messo sul libro in modo molto comico. Quindi qual è il segreto di questo libro? Che si ride mangiando. La comicità al servizio della lettura davanti a un pubblico di bambini. Cosa più bella non c'è. Non c'è cosa più bella. Io adoro i bambini. Tra l'altro c'è un bambino di 13 anni che è uno splendore. Poi sono diversi da noi, perché mio figlio tra i 13 anni mi ha chiesto un anticipo sul TFR. Io gli ho detto, Mattia ma che cos'è? Sono preparati perché mi ha detto, papà, trattamento di fine rapporto per qua non me ne vado. E io gli ho detto, Mattia per adesso ti posso dare un CNC. Mi fa, che papà, carcio un culo fino a qua non resti. Perché bisogna farsi rispettare, però è viva i bambini. Sono veramente il sale della vita. E io voglio tornare bambino. In realtà lo sono già dentro. Concludiamo con una bellissima giornata abruzzese. Un bel pomeriggio con dei bambini e dei libri. Gabriele Cirilli è un innamorato dell'Abruzzo e sempre lo sarà. Assolutamente. E mio nonno mi diceva, non dimenticare mai le tue radici, le tue origini. Le tue 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 abbastonate. Però questo poteva sembrare un ordine. E invece era un'esortazione. E io questa esortazione la porto sempre nel cuore. Non bisogna mai dimenticare le proprie radici, le proprie origini. Perché noi siamo quello. E io sono l'Abruzzo. Ci vediamo presto. A tutti quanti. Vedete che l'abbraccio è grossa. E viva l'Abruzzo.